Santa Rita ha attraversato momenti particolarmente tragici nella sua esistenza terrena e credo che questa esperienza che ha vissuto in prima in prima persona la rende particolarmente vicina e attenta ad ogni momento faticoso dell'umanità come quello che stiamo vivendo in queste settimane allora venire qui in questo pellegrinaggio virtuale portando con noi tutta la grande famiglia dei suoi devoti diventa davvero un atto di affidamento e di grande fiducia così come lei ha saputo resistere nel momento della prova insegna a noi con l'esempio della sua vita e ci ottenga con la sua preghiera quella sapienza che ci permette di attraversare anche questo tempo senza perdere di vista ciò che è essenziale che è l'amicizia con Dio e l'amicizia tra di noi mi sembra che essere questo è il messaggio che Santa Rita ci lascia l'insegnamento che possiamo raccogliere anche da questo pellegrinaggio sapendo che la sua preghiera ci accompagna e ci sostiene non siamo da soli nel continuare il cammino